Ciao a tutti ragazzi, qui Awe dove è toooooooota! Si vuole pagare una crisi di identità! Siamo finalmente oggi tornati con un nuovissimo video anche perché di vecchi video non ne faccio più! In questo preciso istante dovete lasciare like, in questo preciso istante 50 mila like perché abbiamo un ospite speciale E seguitemi adesso in questo preciso istante su Instagram, Awe, del doppio latino a basso Perché lì e solo lì caricherò foto esclusivamente nudo No, non prendiamoci in chiacchiere perché al telefono abbiamo niente popo di meno che Enrico Pasquale Pratico Awe dove è toooooooota, quella con le crisi di mezza età, questo è bellissimo Come bellissimo, cioè nel caso bellissimo, cioè sono maschio, capito che ho le crisi di identità, ma il sesso dovrebbe essere ancora maschio Tu che cosa stai facendo Enrico? Qua niente, tu? Io un cazzo adesso Enrico, cioè sto aspettando solo che Dio mi chiami, poi nel frattempo faccio cose, vedo gente, mangio Cioè sta difendendo, cioè imbarazzando questa conversazione, cioè tu hai mangiato Enrico? Sì, ho mangiato la pasta con i favi Pasta con i favi? Che cazzo sono i favi Enrico? Tu sei una principessa E che cazzo cazzo? Enrico io sono maschio Enrico, nel caso principe Pure ranocchio va bene, ma la principessa proprio non va bene Prego principessa Natavod, ti sto dicendo, principe, a proposito di Danocchi, ma tu ce l'hai qualche animale domestico in casa Enrico? Sì, due gattini, si chiamano Juventus E che cazzo di nome, cioè tu vuoi mai chiamare i due gattini Juventus? È bellissimo, che bianco e nero sono E che cazzo è che, cioè non ho capito, se tu adesso avevi un canarino giallo e uno nero, come lo chiamavano? Ape Maia? E tu lo abiti, principessa mia? Natavod, questa principessa, io abito a casa mia Enrico, cioè un po' più avanti da casa degli altri Mamma mia che bella questa ragazza, è stupenda Ma cioè ma loro lo stai facendo apposta Enrico, cioè non è possibile, non possiamo andare avanti così Enrico, io sono un uomo Che sei, sola o con la tua amica sorella? Prima cosa nel caso sono solo, ma che cazzo è l'amica sorella, è un nuovo tipo di parentela Che siete bellissime, nero, madonna Adesso non mi sembra il caso di bestemmiare Lo sai, lo sai, lo sai Lo seppi, lo seppia, lo sebbe Allora, lo sapete come siete belle voi? Dammi anche del tubo, dammi del cazzo di maschile! A 1 a 10 siete belli assai Da 1 a 10 assai? Hai visto che ho messo oggi due foto? Sì sì, le ho viste, le ho pure segnalate subito E non tanto mi bloccarono là, no, mi bloccarono, segnalaro Te segnalaro, passato de moto, di un verbo che non esiste Non metto foto, metto foto di macchine, moto L'autocongestionare Siete i miei principessi e i migliori I principessi e i migliori Di che stiamo parlando? Ancora non ho capito Enrico, adesso così c'è, per conoscerci meglio Tu ce l'avrai un colore preferito, no? Colore? Io, a me mi piacciono tutti i colori Tutto quanto? Tu appena vedi l'arcobale ti impazzisci? Il rosso, quello bianco e nero Che cazzo di colore è quello bianco e nero? O è bianco o è nero? E quello blu, Italia Colore blu, Italia Io ormai non mi faccio più domande Nei, sono bellissimi queste ragazze E questo è il gemello Quali gemello, Enrico? Cioè, vedi qualcuno che c'è in questa stanza Che io non vedo? Quali gemello? Ai 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 Ti hai fatto male? Se, senti Enrico, ma che bello discorso Perché mi stai mettendo veramente in soggezione Tu ce l'avrai qualche film preferito? Cioè, qualche film che ti piace davvero? A me mi piace Fast and Furious Fast and Furious? Cioè, non ho capito che cosa è l'incrocio fra Fast and Furious È una gara di cavalli Ci sta a toretto Puppu cavallo Siccome abbiamo visto che quei film non è cosa Almeno è la tua canzone preferita Qual è? La canzone di Fabio Rovazzi Andiamo a comandare Più o meno come fa? Andiamo a comandare Il tattore in centrale Il tattore in centrale? Poi io le voglio baciare Dove mi può baciare? Cioè, mo ci stiamo veramente allargando Quanti anni vuoi? Cioè, ho 21 anni Quando? Di giorno? A aprile, a giugno? A luglio A aprile, dici tu? No, sto dicendo luglio L-U-G-L-I-I-O U-I-O Luglio O a giugno Luglio Luglio Giugno Scusa Ma fanguto Tu quando sei nato invece? Io a aprile 22 aprile 2016 Nel 2016 sei nato Enrico La mia data di nascere è 22 aprile 1-9-9-2 1-9-9-2 1-9-9-2 Sei nato nel 192 Ma sai che questi 2000 anni quasi quasi te li porti proprio bene? Stai Enrico, guarda, adesso ti chiedo l'ultima cosa che poi devo scappare Tu hai visto le mie foto su Instagram? Cioè, tu appena vedi una mia foto su Instagram, che cosa pensi? Ehm, un modello sex Un modello sexy Enrico, facciamo che ci sentiamo la prossima volta Facciamo che poi ci sentiamo Cioè, ci vediamo la prossima Cioè, ci vediamo la prossima